In questa video-lezione vedremo di quali strumenti Aeb si è dotata per trasformare i precetti della normativa in azioni concrete a favore degli associati. Ci sono una serie di documenti Aeb che sono stati creati o rivisti in modo strumentale all'applicazione della legge 4 2013 e del decreto legislativo 13 2013. e della normativa alla quale facevamo cenno nel precedente video. Ne abbiamo già incontrati alcuni ed ora li riprendiamo e rivediamo per quanto attiene alle procedure per l'iscrizione come associato e per la fase di attestazione. Analizzeremo quindi lo statuto, il regolamento di iscrizione, la direttiva CEN in addempimento al regolamento di iscrizione e le linee guida per la formazione, elaborate da osservatorio formazione che, da statuto, è lo strumento operativo che si occupa della promozione e dell'organizzazione di corsi, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali. Lo statuto, nella sua forma attuale, è stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati a Firenze il 4 novembre 2010 ed è in vigore da quel giorno stesso. Ci interessa qui l'articolo 2 sugli scopi sociali, che parla di supporti scientifici per la formazione continua. Il 3, strumenti operativi, definisce le funzioni e le caratteristiche dell'elenco degli associati. Inoltre, sottolinea che tra gli strumenti ci sono, di nuovo, aggiornamento e formazione professionale continua e la costituzione di commissioni permanenti e gruppi di studio. L'articolo 9 dello statuto pone la formazione tra i doveri degli associati. Come abbiamo già visto nel precedente video, da questi articoli deriva l'istituzione dell'osservatorio formazione. Inoltre, nel titolo 2 dello statuto si definiscono lo status di associato e di amico, le modalità di iscrizione e rinnovo come associato e l'istituzione della commissione di attestazione. In realtà, l'addizione esatta nello statuto è commissione di certificazione, ma una nota spiega che, proprio per adeguarsi alla legge 4 del 2013, alla prossima modifica statutaria il nome verrà mutato ufficialmente in commissione di attestazione. Preferiamo qui usare da subito il termine aggiornato, che è già stato accolto dal regolamento di iscrizione. L'articolo 6 dello statuto rimanda le modalità del rinnovo come associato al regolamento di iscrizione, ma già stabilisce che la sezione si occupi del rinnovo annuale e che le richieste vengano recapitate alla commissione di attestazione, secondo il regolamento di iscrizione, che ora vedremo. Secondo il regolamento, la commissione, alle cui sedute partecipa anche il segretario generale dell'AIB, delibera sulle richieste di iscrizione a seguito della richiesta di verifica quinquennale e provvede, in collaborazione con le sezioni, alla tenuta dell'elenco degli associati. La commissione delibera altresì criteri di valutazione dei requisiti e delle competenze professionali. Il fatto che la verifica sia quinquennale è precisato all'articolo 8 e 9, che ora vedremo. L'articolo 8 parla di verifica quinquennale e degli obblighi dell'associato, come il versamento della quota entro il 15 marzo, il rispetto dei doveri di cui è l'articolo 9 dello Statuto, quello sui doveri degli associati, e stabilisce che l'elenco aggiornato sia consultabile a partire dal sito web dell'AIB. La Segreteria Nazionale, entro il 30 novembre del quinto anno di iscrizione, invita gli associati a presentare la richiesta di verifica quinquennale. Essi, entro il 15 gennaio successivo, presentano la richiesta alla commissione, autocertificando la propria attività lavorativa e le attività di aggiornamento e formazione continua sviluppate nel quinquennio. Chi non lo fa verrà sospeso dall'elenco associati a partire dal 15 marzo successivo e cancellato definitivamente se non provvederà entro il 31 dicembre. In questa fase, la commissione collabora con le sezioni per attestare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dell'associato e verifica la rispondenza delle attività di aggiornamento e qualificazione professionale. Per le sezioni è definito un ruolo ben preciso, dal momento che, a differenza della commissione, esse sono sul territorio. Ecco perché è importante che in seno alle sezioni stesse ci siano delle persone informate che possano rispondere alle domande degli associati e alle domande della commissione. L'esito della verifica da parte della commissione è previsto per il 28 febbraio. La definizione del tipo di attività lavorativa da attestare fa riferimento all'articolo 2 del regolamento, oggetto della professione del bibliotecario, ovvero colui o colei che esercita o possiede requisiti per esercitare sia l'attività nell'ambito dei servizi bibliografici informativi di documentazione che quella di ricerca e didattica nel campo disciplinare specifico e in quelli affini. Nell'articolo 10, oltre a dire, come abbiamo già visto, che la formazione continua costituisce un dovere per l'associato e a ribadire che gli associati sono tenuti a documentarla al fine della verifica quinquennale dell'iscrizione, si parla della direttiva del CEN che, previsto, definisca le caratteristiche quantitative e qualitative delle attività formative e dovrebbe anche determinare i criteri e le modalità per il calcolo dei crediti formativi, anche se più che di crediti formativi, normalmente rilasciati da enti accreditati di formazione, sarebbe più corretto parlare di calcolo delle attività formative, come vedremo quando esamineremo la direttiva. Questo articolo ribadisce nuovamente il ruolo scientifico e di pianificazione che deve svolgere l'osservatorio formazione. Approvata dal CEN nella seduta del 29 dicembre 2015, la direttiva sulla formazione continua si basa sulle linee guida per la formazione continua elaborate dall'osservatorio formazione e che vedremo in seguito. La direttiva si occupa della struttura dei corsi, dell'attestazione delle competenze e della definizione del monte crediti e parla per la prima volta di portfolio che, si dice, andrà usato nella fase a regime. Il periodo preso in considerazione va dal 2014 al gennaio 2019. Dopo la prima attestazione, si prevede una revisione della direttiva stessa, sulla base dell'andamento. Oltre a ribadire che l'associato AIB manifesta la volontà personale di migliorare costantemente le proprie competenze attraverso la formazione continua e in percorsi che possono essere formali, non formali e informali, la direttiva indica lo strumento del portfolio per registrare le competenze acquisite descritte nella norma UNI e nelle aree formative OF. Per la compilazione del portfolio si parla di mentoring, ovvero dell'assistenza di un associato adeguatamente preparato che si offre di aiutare chi intende compilare il portfolio. Si tratta di un'opportunità di crescita professionale che gli associati, a cominciare da quelli che partecipano a questo corso volendo, possono cogliere, sostenendo le sezioni in questo passaggio. In un'associazione di volontari come la nostra, i facilitatori possono conoscere realtà professionali diverse, allergare il loro sguardo sul proprio territorio, partecipare ad una rete nazionale di relazioni e rendersi conto delle competenze che essi stessi hanno acquisito. Ci piace pensare che la direttiva non parli solo di portfolio. Il semplice fatto di sapere quando il portfolio sia consigliabile e quando sia superfluo implica una competenza che non tutti possiedono, come provano i dubbi che molti di noi avranno certamente raccolto dagli associati, le risposte ai quali sono contenute nei documenti che ora stiamo esaminando e che sono in rete da tempo, come avete potuto vedere dalle loro date. Tuttavia, i bibliotecari sanno bene che non è sufficiente rendere disponibile un testo in rete perché esso venga compreso. E questo vale per tutti. Quindi, proseguiamo con la nostra analisi alla ricerca di risposte e di strumenti. Ed eccoci ai dati e ai punti che forse hanno ingenerato la maggior confusione. La direttiva stabilisce che per il rinnovo quinquennale sia necessario aver acquisito almeno un credito annuo, vale a dire 25 ore di lavoro, per gli ultimi 3 anni, per un totale di 75 ore. Il riferimento al credito è nato perché si pensava all'equivalente del carico di lavoro del CFU. In poche parole, il credito universitario. Come si diceva poc'anzi, AIB attesta competenze, quindi sarebbe più chiaro se parlassimo semplicemente di 25 ore all'anno di carico di lavoro. La condizione ottimale è che il carico di lavoro sia ottenuto negli ultimi 3 anni, ma la commissione di attestazione ha facoltà di tener conto di particolari situazioni personali o lavorative e di fare una valutazione complessiva anche di carattere discrezionale, integrando la lettura della documentazione inviata dall'associato con una verifica diretta, con la collaborazione della sezione coinvolta. La direttiva dice che, per presentare la domanda di attestazione, va compilato un modulo o un portfoglio. Il modulo, che era stato utilizzato nel 2014, che prevede di inserire un elenco di attività, può essere ancora sufficiente nel caso in cui le 25 ore di carico di lavoro annue, o le 75 in 3 anni, possano essere documentate attraverso certificati di apprendimenti formali o certificati non formali con attestazione di competenze A.E.B. Una copia del modulo verrà caricata in piattaforma. Allo stesso scopo serve il curriculum vitae formato Europass, che tuttavia consente, accanto alla descrizione delle attestazioni e delle esperienze, di aggiungere una descrizione delle attività svolte e delle competenze acquisite. Il portfolio è lo strumento più adatto a comunicare i percorsi professionali atipici, quelli di chi ha svolto attività diverse che non hanno dato luogo ad attestazioni formali, ma non per questo non hanno determinato l'acquisizione di competenze. Nel curriculum Europass non parleremo in dettaglio, dato che il sito dedicato, che potete vedere nella slide, è estremamente ricco di spiegazioni e già ben strutturato. Nella quarta settimana passeremo al portfolio e a quello dedicheremo un po' più di tempo. Segnalo qui che la direttiva offre tra gli allegati una scheda di riflessione teorica e un modello di portfolio, ma che da allora l'osservatorio Formazione, grazie all'aiuto di alcune colleghe del gruppo informale sul portfolio, in particolare Imma Murano e Maria Giacobbe, ha messo a punto un modello in PDF editabile che renderà ancora più facile il compito delle prossime settimane. L'ultimo strumento che prenderemo in esame sono le linee guida sulla formazione continua elaborate dall'osservatorio Formazione. Si tratta di un documento operativo, di grande interesse per l'organizzazione dei corsi e per l'attestazione dei risultati di apprendimento informale e non formale, quindi per i progettisti dei corsi, per i docenti, per i chair, per i referenti per la formazione e per il portfolio delle sezioni. Costituiscono la base per un sistema omogeneo di qualità per erogare formazione. Si descrive il sistema delle competenze, il ruolo di Aibre nell'attestazione delle stesse, i tipi di apprendimento e gli obiettivi formativi, le unità di competenza, le modalità didattiche, la lezione frontale, il lavoro di gruppo, l'autoapprendimento e così via, le modalità di erogazione, valutazione e rendicontazione dei corsi, le figure didattiche coinvolte, responsabile del corso, docente, facilitatore e i loro ruoli, e infine i servizi forniti agli associati da Aibre. Aibre offre un servizio di supporto nella costruzione del portfolio, lo strumento che dà l'evidenza delle competenze acquisite e che riporta i risultati dell'apprendimento non formale o informale, le evidenze a supporto e soprattutto le motivazioni per cui tali evidenze sono considerate rilevanti del singolo associato, ovvero quali competenze servono a dimostrare? Si dice inoltre che, oltre alla costruzione del portfolio, il processo di supporto dovrà porsi come obiettivo quello di accompagnare la persona nell'acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e della loro effettiva spendibilità. Si ricorda infatti che il servizio è e deve essere autoconsistente, ovvero deve possedere una sua completezza anche nel caso in cui la persona decida di non affrontare il servizio successivo di validazione delle competenze. Vale a dire che, secondo le linee guida, la crescita personale del professionista avviene indipendentemente dal bisogno di un'attestazione. Il servizio di attestazione delle competenze si riferisce al ruolo che l'associazione svolge attestando o validando le competenze dei propri associati di fronte alla società e di fronte al mondo del lavoro. Gli strumenti operativi offerti dalle linee guida comprendono una tabella di corrispondenze tra aree formative OF o osservatorio formazione e aree di attività uni, alla quale abbiamo già fatto cenno e che approfondirà Manuela De Noia la settimana prossima. E, inoltre, varia modulistica di supporto, come i modelli per l'attestazione delle competenze per i corsi che, come questo nostro, prevedono di testare il saper fare dei partecipanti e anche per quei corsi che si svolgono in una sola giornata e prevedono semplicemente una verifica sulle conoscenze per la quale è disponibile il modello di test di valutazione sull'apprendimento. Per i corsi detti a quattro fasi, le linee guida spiegano quale documentazione produrre a fine corso e come svolgere il test di valutazione del corso stesso da parte dei partecipanti. Anche qui, i modelli sono disponibili in rete. Altri strumenti disponibili, anche se non sul sito di Aib, sono un modulo per la richiesta per il corso online, nel quale si precisa quale tipo di servizio si richiede alla webmaster, che è stato creato da Maria Carino, la nostra webmaster è anche qui, e quindi i dettagli vanno chiesti a lei, i riferimenti vanno chiesti a lei. Il modello di portfoglio editabile è quello prodotto da Murano e Giacobbe, del quale abbiamo parlato prima, e che distribuiremo in piattaforma. Anche la roadmap verrà depositata in piattaforma. Non si tratta di un documento ufficiale, ma di un riepilogo delle fasi necessarie per organizzare all'interno di una sezione un corso in piattaforma a quattro fasi e chiarisce che cosa si deve fare, chi deve farlo in sezione e a chi deve comunicarlo all'interno del nazionale o all'interno della sezione. Eccoci anche alla fine di questa video-lezione. Non dimenticate il test delle conoscenze. Il prossimo video si svolgerà la settimana prossima a cura di Manuela De Noia che parlerà dell'analisi delle competenze.